Il 13 gennaio del 2012 era bastata poco più di un'ora per farlo andare a fondo dopo l'inchino davanti all'isola del Gio, condannato alla manovra di un solo uomo, 32 vittime, due delle quali ancora non ritrovate. 610 giorni dopo il naufragio, il gigante Costa Concordia è di nuovo dritto, ci sono volute 22 ore per risollevarla, 600 milioni, una squadra e 500 uomini tra sommozzatori, fabbri, saldatori, ingegneri, tecnici ed esperti di ogni genere, tutti altamente specializzati. Della nave da crociera oggi resta la ruggine marrone, e una ferita sul fianco, il segno delle rocce sulle quali è stata adagiata per 20 mesi. La missione è compiuta ma resta ancora tanto lavoro da fare, dovrà essere portata via per essere messa in sicurezza e quindi demolita e sono due i porti in Italia che potrebbero accogliere la nave, quelli di Piombino e Palermo. La gara tra i due porti, destinataria di una pioggia di milioni pubblici per interventi infrastrutturali, vede favorito il capoluogo siciliano per le sue caratteristiche. La Concordia dovrà entrare in un porto che abbia almeno 20 metri di pescaggio e un'infrastruttura di almeno 60 metri di larghezza, misure che a Piombino non ci sono e che Palermo invece possiede. Il bacino, ad esempio, è largo 68 metri. La Concordia, inoltre, è già stata dentro il cantiere palermitano per lavori di trasformazione. C'è da dire inoltre che nel porto di Piombino, oltre a mancare le infrastrutture, il pescaggio non arriva a certe profondità, tanto che è stata bandita una gara per lavori sul fondale. E sembra difficile che i lavori di ristrutturazione coincidano con quelli della demolizione della nave. Palermo, sottolinea i fincantieri, quarto gruppo cantieristico al mondo, è attrezzato da subito per ricevere la Concordia, così com'è, con tutti i cassoni dentro il bacino da 400.000 tonnellate. L'ultima parola aspetta comunque a Costa Crociere. Intanto domani l'assessore alle attività produttive Linda Vanchieri sarà al Ministero dello Sviluppo Economico per definire le linee di sviluppo del cantiere palermitano. Il governo regionale dice a tutta la volontà di portare la Concordia a Palermo.